FPT Industrie ha fatto da sempre dell'innovazione il suo punto di forza. Le nuove sfide non ci spaventano e con grandissimo entusiasmo abbiamo intrapreso questo percorso molto stimolante e che ci sta dando grandi soddisfazioni verso l'evoluzione di Industria 4.0 e la trasformazione digitale, al punto da trasformare completamente i nostri prodotti tradizionali e creare anche uno spin-off la Mares SRL di cui siamo molto orgogliosi perché abbina le tecnologie tradizionali e le tecnologie abilitanti che saranno importantissime per il nostro futuro.